E la sconfitta col Parma ha fermato la corsa del Bari, ma il preparatore atletico dei Biancorossi, Giampiero Ventrone, non ne vuole sapere e fa correre più di prima i suoi uomini. La marcia verso la Serie A passa anche dai piedi di Stefano Guberti, intervistato per noi dal nostro Biagio Fanelli. Correre, 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 in 11 giorni si scrive il futuro del Bari. Rimini, Ancona, Albinoleffe, tre avversari niente male, dai quali è difficile attendersi i regali. E allora non resta che smazzare sul campo ed in palestra agli ordini di Ventrone. Esercizi di potenza aerobica e di destrezza, accelerazioni e arresti continui. L'arma in più del Bari potrebbe essere questa. Correre dunque, esercizio che non trova impreparato Stefano Guberti, uno che di chilometri sulla fascia ne macina in grande quantità. Valore aggiunto perché lo stiamo dimostrando sul campo che riusciamo a reggere per 90 minuti a alta intensità, quindi sicuramente è per quello che dico che il lavoro di Ventrone è un valore aggiunto. Perché comunque abbiamo dimostrato che quando abbiamo giocato anche infrasatimanalmente abbiamo sempre fatto bene. In vista del Rimini, sono fuori causa Esposito Devezze e Rivas. Preoccupano meno Donde e Bianco. Guberti non ha dubbi. Il Bari non risentirà delle assenze. Sicuramente dispiace per quelli che ora non possono darci una mano, però siamo in 24-25 se non sbaglio, quindi tutti sono importanti e lo dimostreranno ora, come l'ha già dimostrato anche Ranocchia a Pisa quando è entrato. Quindi non c'è nessun problema per questo. Impossibile non chiedergli del futuro. Tante big di Serie A lo seguono, la Roma in primis. L'esterno rimanda ad altri momenti certe considerazioni. Ma non nasconde che la promozione del Bari e l'eventuale riconferma di Conte potrebbero essere argomenti sufficienti per non lasciare la Puglia. Sì, sicuramente questo è molto importante. Tutte queste cose sono molto importanti e sono quelle che voglio valutare per bene per scegliere cosa fare in futuro. Ma un milanista che va a Roma o alla Juve? Come si sente? Alla Juve non ci si può andare per forza, no, no, scherzo. Io sono milanista da piccolo, però non c'entra niente quello. Il calcio è il calcio, non conta quello che tifi. Alla Juve non ci si può andare per fare, no, scherzo. Alla Juve non ci si può andare per fare, no, supponete andare per fare, no, scherzo. Alla Patch ! Alla Patch ! Grazie a tutti.